castanea sono a castanea delle furie e oggi vado a vedere il presepe vivente di castanea delle furie farò anche il video parteciperò al concorso fotografico come ogni anno questo è il terzo video speciale di capodanno il primo già è andato bene anche il secondo quindi dovrebbe andare bene anche questo ma non prima di aver acquistato e mangiato delle castagne ok eccoci un po di attesa ma stiamo entrando c'è sempre tantissima fila per entrare in questo presepe anche se tu arrivi con largo anticipo comunque dovrei fare fila come è successo a me ma questo è perché è bellissimo qui vi faccio vedere da sopra l'ingresso e tra pochino entro mi taccio e vi faccio vedere il video che sarà lo stesso poi che porterò al concorso quindi buon natale di nuovo a tutti direi sì e vi faccio vedere il video che sarà un po' di attesa Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.